Mozione molto complessa e articolata nella sua premessa, una mozione che abbraccia un po' tutte le problematiche che si sono verificate negli ultimi anni dalla crisi economica, dal problema di non avere un piano industriale né commerciale né un piano che riguarda la questione legata all'energia. E tutti questi riflessi negativi si sono poi ribaltati sul sindaco, sull'amministrazione locale dove chi gestisce a livello più basso forse del ma il più vero dell'amministrazione locale è il cittadino. E ci troviamo di fronte a una verità assoluta, il sindaco di Talgate viene da un territorio, quello bergamasco, dove la parola disoccupazione fino a 4-5 anni fa, 6 anni fa non esisteva. Dove probabilmente rimpinguare quelli che erano i capitoli riguardanti il sociale era molto più semplice, dove gli incontri come giustamente diceva lui prima venivano solo ed esclusivamente per far sì che le attività commerciali e industriali fossero potenziati. Adesso le cose si sono assolutamente ribaltate e la questione del 14% di disoccupazione a livello nazionale chiaramente non aiuta e il 40% forse anche qualcosa di più della disoccupazione a livello giovanile è addirittura drammatica. I problemi dei cittadini sono purtroppo sempre i soliti ultimamente, chi non riesce a pagare l'affitto, chi non riesce a pagare le bollette, chi è perseguitato da Equitalia, chi adesso sta litigando con se pagare la RAI nella bolletta o pagare magari la bolletta della corrente che sarebbe forse meglio. E liste d'attesa, la questione legata alle case popolari, questioni legate ai più umili dei bisogni di tutte le famiglie, questo è quello che il sindaco tutti i giorni si trova ad affrontare. E che ne dica questo governo, il Giovact ha portato solamente un grande pasticcio anche sotto l'aspetto delle assunzioni, oggi qualche testata giornalistica parla di circa 100.000 posti di lavoro fasuli dove le aziende, purtroppo qualche furbetto c'è sempre, 100.000 assunzioni fatte solo ed esclusivamente per avere il beneficio degli sgravi fiscali, però sono 100.000 posti di lavoro che vanno a cubare all'interno di un ragionamento che il governo fa di effettivi posti di lavoro, cosa che non è assolutamente vero. Parlavamo prima della questione legata al piano industriale che manca a questo governo, io spero che il prossimo ministro abbia un'attenzione particolare a questa problematica. Io sono in commissione industria, commercio e turismo, spero che il ministro abbia un'apertura mentale tale da poter mettere in condizione questo Stato, questo Paese, di non delocalizzare in continuazione tutte le attività che ha e di non farsi acquisire in continuazione da quelli che sono i Paesi, attività e commerciali straniere. Ecco, io da ex sindaco dico di aver fatto il sindaco veramente nei momenti buoni, dove le problematiche legate all'amministrazione comunale erano altre, spiace molto che le amministrazioni locali in questo momento siano più concentrate su aspetti che non dovrebbero neanche essere presi in considerazione in un Paese normale, ma che purtroppo sono il pane quotidiano degli uffici e del sindaco e della giunta. E questa è una cosa che sinceramente speriamo che anche con questa mozione di sollecitare un po' le attenzioni di questo Governo, che sinceramente per quanto riguarda il Senato, ma credo anche la Lega, la Camera, ne ha avuta ben poca.